Allora, l'aria fa di spirito e finalmente si va più in fondo. Bella partita, oggi quasi speriamo. Sì, sì, bella partita, abbiamo giocato molto bene, abbiamo recuperato due dei tre set vinti, soprattutto l'ultimo, siamo partiti con sei punti di svantaggio, quindi è stato un grande set, una grande forza di squadra. E oramai voi, visto che ho recuperato quella stagione, più che una sorpresa, la sorpresa vostra sta nel fatto che siete determinatissime, giocate come le grandi, essendo che non avete emozioni particolari o comunque la sconete bene, per cui, sia che vi trovate davanti, sia che vi trovate tanto, comunque non vi scomperete più di tanto e giocate una volta sopporti. Sì, questo è un complimento, però a volte ci facciamo prendere un attimo dall'esperienza, soprattutto la gara 1 è andata così, perché è ingiustificabile un risultato del genere dopo aver visto la prestazione di stasera. Quindi adesso dimentichiamo gara 1 e gara 2, giochiamo tutto per tutto mercoledì, giochiamo a viso aperto e vediamo cosa succede. La presa è sorpresa, quindi la sorpresa sarà ancora finita. Esatto. Un po' qualcuno sarà l'altro.